Musica Programmazione del governo regionale riguardi i fondi del PNRR destinati alla riorganizzazione della sanità territoriale siciliana Pari a circa 800 milioni di euro, l'analisi di Giuseppe Lupo, capogruppo Partito Democratico a Lars Fuga dagli ospedali, il 77% dei medici siciliani pronto a lasciare Quanto emerge dal sondaggio condotto dalla federazione Cimo Fesmed, 410 le risposte arrivate Oltre 5.000 imprese e delle costruzioni a rischio con le modifiche al bonus edilizia Che per evitare le frodi immobilizza un settore importante dell'economia Inquinamento ambientale e maia nera per Palermo e Catania Secondo l'ultimo rapporto Malaria che ha fotografato le due città siciliane come più inquinate dell'isola La comicità virale di Chris Clun sul palco del Cineteatro Colosseum di Palermo il 18 febbraio Per lo spettacolo L'ultimo uomo sulla terra Bentrovati alla seconda edizione di Media News di lunedì 7 febbraio In apertura l'analisi di Giuseppe Lupo, capogruppo partito democratico all'Ars Sulla programmazione del governo regionale riguardo i fondi del PNRR Destinati alla riorganizzazione della sanità territoriale siciliana Pari a circa 800 milioni di euro Si torna a parlare di fondi destinati alla sanità e della gestione da parte del governo regionale Si, una gestione scriteriata, investimenti fatti senza tener conto dei reali bisogni dei cittadini Ospedali di comunità realizzati dove probabilmente non andranno mai ammalati Case delle comunità che non trovano giustificazione in alcuni comuni piuttosto che in altri E' la totale assenza di confronto, di dialogo sia con le parti sociali, con le organizzazioni sindacali Con le associazioni dei medici, con l'ordine dei medici Che con la commissione parlamentare sanità Che ha conosciuto il piano del governo soltanto dopo averlo letto sui quotidiani E' un modo sbagliato di gestire L'assessore Razza dovrebbe rendersene conto e davvero cambiare completamente il registro Abbiamo sviluppato un confronto con gli amministratori locali, con i sindaci, con i medici Con le associazioni delle diverse categorie professionali del mondo della sanità Per capire quali possono essere le proposte Un lavoro complesso che abbiamo iniziato a partire dalla provincia di Palermo Che proseguiremo per tutte le province Già mercoledì prossimo è riconvocata la commissione sanità Noi rappresenteremo lì le nostre opinioni, le nostre osservazioni, le nostre critiche Anche la nostra condivisione rispetto ad alcune cose che possono andare bene Il nostro punto di vista non è far la guerra al governo musulmeci Non ci interessa, ci interessa difendere la salute dei cittadini A suo punto di vista il territorio ha avuto scarsa attenzione Quindi assoluto non ascolto in questo caso Ma certamente sì, penso a un territorio come, faccio un esempio, la città di Bagheria Che non è un piccolo comune, è una grande comunità che non ha avuto alcuna attenzione Con questo piano sanitario del PNRR, dell'assessore Razza, di Musulmeci Come se Bagheria non esistesse o fosse un piccolo comune alla periferia Al confine con la città di Palermo Non è così, quindi è l'esempio eclatante della totale assenza di una vera programmazione Così come enormi problemi abbiamo per la sanità nelle isole minori Ma anche in altri comuni che non trovano adeguata attenzione Allora è tutto da ripensare e noi chiediamo innanzitutto che le scelte vengano fatte su criteri oggettivi Non sulle amicizie di tipo politico con un sindaco piuttosto che un altro Bisogna rispettare un principio di eguaglianza di tutti i cittadini Che hanno diritto ad avere risposte adeguate al governo regionale A prescindere dal colore politico di chi governa i loro comuni Non si capisce ad esempio perché non debba essere meglio valorizzato l'ospedale di Carini Un ex ospedale che ha delle strutture che possono essere ottimizzate Per funzionare come ospedale di comunità Considerato peraltro che c'è un enorme sovraccarico sull'ospedale di Partinico Che come sappiamo è destinato alla cura del Covid E allora avere nelle vicinanze un ospedale come l'ospedale di Carini Che possa far fronte ai bisogni degli ammalati non Covid Può essere una grande risorsa per tutto il territorio Fuga dagli ospedali Il 77% dei medici siciliani pronto a lasciare Quanto emerge dal sondaggio condotto dalla Federazione Cimo Fesmed A cui i medici siciliani hanno risposto in massa Sono 410 le risposte arrivate dalla regione Vediamo Solo il 23% dei medici ospedalieri siciliani potendo scegliere Continuerebbe a lavorare in un ospedale pubblico Il 26% sogna la pensione Il 23% fuggirebbe all'estero Il 15% vorrebbe dedicarsi alla libera professione Il 13% preferirebbe lavorare in una struttura privata Addirittura il 32% sceglierebbe un'altra professione E quanto emerge dal sondaggio condotto dalla Federazione Cimo Fesmed A cui i medici siciliani hanno risposto in massa 410 le risposte arrivate dalla regione Numeri che dovrebbero allarmare istituzioni regionali e pazienti Analizzando i risultati delle indagini Le cause di tale insoddisfazione risultano chiare Il 67% dei medici siciliani è costretto agli straordinari Di questi il 19% lavora più di 48 ore a settimana Violando la normativa europea sull'orario di lavoro Ore impiegate per lo più compilando atti amministrativi Il 63% ritiene infatti eccessivo il tempo da dedicare alla burocrazia Mentre solo il 36% pensa di riservare una quantità adeguata di tempo All'atto medico, all'ascolto del paziente Impossibile per molti infine andare in ferie Il 50% dei medici siciliani che hanno risposto al sondaggio Ha infatti tra gli 11 e i 50 giorni di ferie accumulati Ed il 33% ha più di 50 giorni di ferie non goduti A complicare le cose poi sono stati senza dubbio Due anni di emergenza causati dal Covid-19 Che hanno aumentato lo stress psicofisico Ritenuto elevato dal 72% dei medici E la percezione del rischio professionale Alto per il 71% degli aderenti E della sicurezza della propria famiglia 60% Contemporaneamente peggiorano in modo drammatico Le aspettative che i medici siciliani hanno per il proprio futuro Solo il 16% spera nel miglioramento della professione L'8% nello sviluppo della propria carriera E addirittura l'1% in un aumento di stipendio Se non si fa qualcosa per genare il malcontento dei colleghi Commenta il segretario di Cimo Sicilia Riccardo Spampinato Il rischio di non poter assicurare la tutela della salute dei cittadini È dietro l'angolo Oltre 5.000 imprese delle costruzioni a rischio Con le modifiche al bonus edilizia Che per evitare le frodi Mobilizza un settore importante dell'economia Il motore inizialmente è stato messo in funzione Ed era un motore potente che poteva muovere un'economia Come inizialmente ha mosso Sappiate che in Italia sono 127.000 le assunzioni nuove che ci sono state In Sicilia quelle che prevediamo sono 2.000 Ma come ho detto poc'anzi Queste sono quelle che probabilmente in questo momento dobbiamo stoppare Non sappiamo come va Ma anche le assunzioni già in atto, in corso Non sappiamo che fine faranno Se non riusciamo a sbloccare la situazione Quindi cosa chiediamo? Chiediamo al governo di modificare l'articolo 28 del decreto legge numero 4 Cercando di ampliare il credito d'imposta Non un solo passaggio ma più passaggi Magari sempre fatto alle istituzioni Quali sono le banche, quali sono le grandi assicurazioni Ci agevolava molto poter passare questo credito anche ai nostri fornitori Come ho spiegato poc'anzi Ma se ciò non fosse possibile accettiamo magari parzialmente questa modifica Questo perché? Perché ristabiliamo subito il meccanismo dell'accessione del credito Che in questo momento è praticamente bloccato E inoltre i controlli per prevenire le truffe Noi le vogliamo, le fomentiamo Chiediamo che ci siano Ma come nell'esempio che ho fatto poc'anzi Non diciamo ai pescatori non pescate più Non si pesca più perché qualcuno ha fatto la pesca di frodo Vogliamo che il comparto sia rimesso in funzione e in moto Perché è un comparto fondamentale per la crescita del PIL in Italia Non c'è bisogno che Lo ripetiamo Ma è palese a tutti Che l'attività edile muove veramente Una massa di persone, di soldi La situazione attuale è quella che abbiamo fermato molti dei cantieri Non li fermeremo Ripeto, vorrei sottolineare che li abbiamo fermati E che abbiamo bloccato anche numerosi ordini Che ci avrebbero permesso nel breve periodo Di installare, di continuare a lavorare con noi e con le nostre maestranze Dico, non è possibile procedere in questa maniera Diciamo che non è possibile che lo Stato con interventi stop Mette delle pezze a delle inadempienze fatte da lui Perché è stato lui a vederci in questa cosa Ed è stato lui a sbagliare e non effettuare i normali controlli Che andrebbero fatti in una così importante transizione energetica Diciamo abbiamo molto investito in queste nuove normative Per noi la cessione del credito ovviamente ci dà la facoltà di prendere lavoro Di prendere manovalanza e quindi di mettere anche in circolazione denaro E mettere nelle condizioni le persone che vanno cercando lavoro Di avere un futuro, di apprendere un mestiere, un lavoro Anche a Messina gli studenti delle scuole superiori contestano le ultime decisioni sul governo Sulla maturità in cui sono state reintrodotte la prova scritta E chiedono maggiore sicurezza nel percorso di alternanza scuola-lavoro Siamo in piazza per dimostrare a tutti e affermare ancora una volta Che il governo mette davanti per l'ennesima volta lo studente Prima che essere una delle persone Dobbiamo ricordare a tutti che i ragazzi dopo tre anni di TAD Dopo non essere andati a scuola Devono avere il diritto a degli esami semplificati Come le scorse generazioni dei maturanti degli ultimi due anni Parliamo come persone prima che studenti Ed è un messaggio di arrivare dritto al governo Insomma contestate questo ritorno alla maturità In una condizione di normalità Quando ancora stiamo uscendo da questa fase di emergenza? Quando ancora è una normalità assente Non travediamo ancora una normalità che comunque noi ambiamo e cerchiamo Ma fin quando non arriverà Perché proprio noi dobbiamo essere degli esempi di cavi Delle prime persone a provare questo tipo di esame Diciamo il messaggio è molto chiaro Gli studenti sono studenti Hanno voglia di studiare, di uscire da questa scuola Di maturarsi Ma prima di esserlo siamo delle persone Siamo degli esseri umani Io sono sicuro che come molti miei ragazzi hanno sofferto in questi tre anni Soffriranno molto di più Siamo da un punto di vista psicologico e personale Con delle lagune e delle difficoltà Si porteranno durante la loro crescita Si affronteranno questi esami di questo tipo L'applicazione di questa situazione pandemica Anche è la maturità Che ha visto negli ultimi giorni Secondo le dichiarazioni del Ministero La reintroduzione della seconda prova di indirizzo Senza aver consultato i canali ufficiali Delle consultive del MIUR Come ad esempio il Consiglio di Nazione dei Presidenti di Consulte Siamo qui oggi principalmente appunto Per protestare contro questa maturità Che non tiene in considerazione le esigenze degli studenti Non tiene in considerazione la pandemia Un percorso scolastico che per chi oggi in quinta Ha visto due anni praticamente del tutto in dad Siamo qui oggi anche a manifestare contro la PCTO Percorsi competenze trasversali per l'orientamento Contro la morte e la poca sicurezza di questa PCTO E degli seggi formativi peraltro non retribuiti e poco sicuri Che hanno comportato ad utile la morte di un ragazzo come noi Di 18 anni Lorenzo Parelli A cui oggi rendiamo amaggio Inquinamento ambientale Maglia nera per Palermo e Catania Secondo l'ultimo rapporto malaria Che ha fotografato le due città siciliane Come più inquinate dell'isola Purtroppo ci aspettavamo questi dati negativi Sull'inquinamento delle nostre grandi città Soprattutto Palermo e Catania Dovuto soprattutto Non all'inquinamento industriale Ma al traffico veicolare Troppe auto spesso vecchie E vecchi sono anche i mezzi pubblici Tra l'altro sono anche molto pochi Che non favoriscono il non uso del mezzo privato Ecco, così come ha cominciato a fare Palermo Dando importanti segnali Ma che bisogna ulteriormente rafforzare Sulla liberazione dal traffico dalle auto del centro storico Con la chiusura delle piazze Con le piste ciclabili Anche Catania si deve adeguare Che è molto molto più indietro Inoltre a Palermo Un grande peso c'ha il porto Con le navi da crociera Ma soprattutto con i traghetti Molto vecchi Che inquinano tantissimo Visto che tramite l'aerosol marino Tutto questo inquinamento ricade sulla città Bisogna intervenire e farlo presto Via libera al progetto per il ripascimento Del litorale di Eraclea Minone L'agrigentino L'assessore al territorio e all'ambiente Toto Cordaro Ha firmato il decreto Che prende atto delle prescrizioni impartite Dalla commissione tecnica per le valutazioni ambientali E rende adesso possibile l'avvio dei lavori Si perfeziona l'iter per procedere all'apertura dei cantieri Per il ripascimento del litorale di Eraclea Minoa Nell'agrigentino Secondo il progetto predisposto Dalla struttura commissariale Contro il dissesto idrogeologico Guidata dal presidente della regione Nell'Umo Sumeci L'assessore al territorio e all'ambiente Toto Cordaro Ha firmato il decreto Che prende atto dell'ottemperanza Alle prescrizioni impartite Dalla commissione tecnica specialistica Per le valutazioni ambientali E rende adesso possibile l'avvio dei lavori Ad eseguire le opere Sarà la Tetis Costruzioni SRL di Ferrara Che si è giudicata l'appalto con un ribasso del 26,2% E per un importo di poco superiore ai 2 milioni e 200 mila euro L'obiettivo è frenare il fenomeno dell'erosione costiera Che negli anni ha causato un sensibile arretramento dell'arenile Consentendo al mare di aggredire alcuni tratti Della retrostante pineta e le attrezzature turistiche Da un punto di vista tecnico L'intervento prevede la realizzazione di tre pannelli Costituiti da massi ciclopici E il ripascimento della spiaggia Il tratto che verrà recuperato E che procede da Capo Bianco verso est Per una lunghezza di circa due chilometri Comprende anche il boschetto Che si trova a pochi metri alla spiaggia Superati questi passaggi Commente il governatore Musumeci Possiamo avviare una complessa opera Che consentirà a questo incantevole angolo di Sicilia Di guardare al futuro con una rinnovata fiducia La stretta e intensa collaborazione Tra le strutture regionali coinvolte Consentirà di arginare l'erosione Che negli anni ha assunto dimensioni preoccupanti Cancellando ampie porzioni di spiaggia Quattro denunce 35 animali in via di estinzione Sequestrati dai carabinieri forestali di Palermo È sempre più diffuso il traffico di animali Per i quali non è consentita la vendita Si intensifica l'azione dei carabinieri forestali Del centro anticrimine Natura di Palermo Rivolta al contrasto del traffico illegale Di animali appartenenti a specie protette Durante lo scorso anno sono stati sequestrati Oltre 300 esemplari in via d'estinzione E denunciate 30 persone Ma il fenomeno è solo parzialmente arginato Nel dettaglio nel mese di gennaio 2022 Sono state 4 le persone denunciate E 35 gli esemplari sequestrati Tra specie di avio fauna, selvatiche e testugini Grazie alla costante attività di analisi e controllo Del mercato nero degli animali E la sinergia informativa con gli altri reparti dell'arma Presenti a Palermo Anche in occasione delle ultime azioni di contrasto Sia il nucleo CITES di Palermo Che il distaccamento di Punta Raisi Hanno deferito all'autorità giudiziaria Soggetti che avevano messo in vendita Senza avere alcuna documentazione comprovante La legale detenzione degli animali Complessivamente 32 esemplari di cardellini E tre esemplari di testugine di terra Appartenenti alla specie testudo Hermanni Tutti gli animali sequestrati sono stati affidati Alle cure di centri di conservazione della fauna selvatica Allo scopo di riadattare gli animali Alla vita selvatica nell'ottica, ove possibile Di un reinserimento nei rispettivi habitat di provenienza In alcuni casi sono stati anche rinvenuti e sequestrati Gli strumenti utilizzati dai bracconieri per l'uccellagione L'attività non si è limitata solo a questo Sempre nel mese di gennaio Sono stati denunciati due soggetti Per detenzione di animali pericolosi Senza la prevista autorizzazione prefettizia E sono stati elevati i verbali amministrativi Per oltre 12.000 euro Per violazioni connesse alla normativa CITES All'iscrezione alla Nagarfe Canine Alla normativa sul corretto esercizio Del prelevo venatorio Al malgoverno di animali Alla movimentazione di equidi Le varietà di violazioni accertate Dai carabinieri del nucleo CITES Seppur tutte connesse alla presenza di animali Evidenziano un impegno a 360 gradi A tutela non solo delle biodiversità Ma anche della sicurezza pubblica E della sanità veterinaria 14 stazioni ferroviarie siciliane Tra Palermo, Catania, Messina e Siracusa Saranno oggetto di un lavoro di manutenzione straordinaria Dal valore complessivo di circa 12 milioni di euro 14 stazioni ferroviarie di Sicilia Tra Palermo, Messina, Catania e il Siracusano Saranno oggetto di un piano di manutenzione straordinaria Dal valore complessivo di circa 12 milioni di euro I tecnici di rete ferroviaria italiana Lo hanno presentato nel corso dell'ultimo tavolo tecnico Che si è tenuto a Palermo Fra interventi previsti Opere murarie, il ripristino di intonaci Degradati e dei percorsi tattili A tutela dei disabili Verniciature, pulizia di vetrate Rivestimenti ed elementi metallici Rimozione di graffiti e varie opere di mantenimento del decoro Nel Messinese il piano di manutenzione Riguarda le stazioni e le fermate di Messina centrale Fiuma Ragazzi, Contesse, Tre Mestieri, Milimarina, Galati, Ponte Santo Stefano, Ponte Schiavo, San Paolo e Messina Giampilieri Si tratta dei scali serviti dal sistema di trasporto integrato Mediante etichetto unico, metroferrovia, bus, tram Finanziato e avviato dalla regione siciliana La scorsa primavera Di concerto con Trenitalia e ATM Quando a Messina abbiamo avviato il biglietto unico Ricorda l'assessore Falcone Avevamo preso l'impegno per la manutenzione delle stazioni Impegno che oggi grazie a RFI Viene mantenuto, di fatto cambiando volto Ai trasporti pubblici dei messinesi Rilanciando la mobilità sostenibile via treno Per abbattere traffico e inquinamento Interventi più massicci Riguarderanno le stazioni di Palermo Notar Bartolo e Milazzo Il piano inoltre Prevede la manutenzione delle stazioni di Catania centrale Noto La comicità virale di Chris Clun Sul palco del Cineteatro Colosseum di Palermo Il 18 febbraio Per lo spettacolo L'ultimo uomo sulla terra Amore potresti farmi un po' ore Dimmi Potresti andami a comprare un pacco di strumenti Al Cineteatro Colosseum di Palermo parte il 18 febbraio La rassegna comici da legare Cinque spettacoli di cabaret Uno al mese Prodotti da Trump Management Con artisti provenienti da celebri programmi tv Regaleranno al pubblico ore di sane risate Il primo a calcare il palcoscenico del Cineteatro Colosseum Sarà Chris Clun con lo spettacolo L'ultimo uomo sulla terra È uno spettacolo da monologhista dove parlo della mia vita Del mio rapporto con i genitori Della Francia Dei lavori che ho fatto E anche del giro il mondo Dei viaggi che ho fatto per il mondo Che feedback ricevi dal pubblico Con la tua comunicazione virale che passa sul web? Positiva perché spesso mi viene detto Che comunque Diciamo che io sono un po' come il linguaggio del popolo La gente dice Quello che non dico io lo fai tu Ed è virale appunto Cosa significa fare comicità oggi In questo preciso periodo storico? È importantissima Anche perché si sentono un sacco di casi Di covid Di gente ricoverata Di famiglie che hanno perso dei familiari E quindi regalare un sorriso è importantissimo E fortunatamente lo faccio e lo facciamo Christian Modica in arte Chris Clun Si avvicina al mondo del teatro all'età di 14 anni Recitando in compagnie teatrali E nel 2004 inizia il suo percorso da ballerino Studiando in prestigiose accademie in Italia e all'estero Nel 2017 inizia la sua attività di videocomici Virali per il web Riescudendo successi e condivisioni Dopo diverse esperienze nei laboratori comici TAC e Sicilia Cabaret Nel 2020 entra a far parte del cast del film Un pugno di amici Con la regia di Sergio Colabona Una libreria itinerante Chiamata libreria da sporto E questo è il sogno su quattro ruote Adesso è diventato realtà Dello scrittore siciliano Salvatore Lanno Dalla Sicilia alla Lombardia per creare una libreria itinerante Da sporto che permette ai bambini e ai giovanissimi Che vivono in luoghi di periferia Di accedere gratuitamente a tantissimi libri E questo è il sogno diventato realtà Dello scrittore di Calatafimi Salvatore Lanno All'interno libri donati Libri dello stesso autore Ma anche e soprattutto di scrittori Emergenti E che hanno messo a disposizione Delle copie dei propri lavori gratuitamente Per raggiungere nuovi luoghi e nuove persone La libreria da sporto è Tra virgoletto una pazzia Che è iniziata due anni fa Perché avevo tantissimi libri in casa Grazie al concorso letterale che organizzo E non sappiamo più cosa fare Siccome neanche a donarli Nessuno voleva ricevere questi libri Flattro nuovi E allora ho pensato di creare questa libreria Questa libreria itinerante Dove appunto all'interno di questo rimorchio speciale Io vado in giro con la mia macchinina Carico i libri Un rimorchio speciale E poi all'interno c'è anche la libreria Proprio lo scaffale Quindi poi magari vedrete qualche foto E vado in giro per cercare di incentivare la lettura Di portare la lettura ai giovani E meno giovani Perché magari adesso Tra la pandemia Tra il fatto che siamo un po' così E non vogliosi andare a libreria Almeno io vado un po' sotto casa Nei parchi Anche nelle scuole Organizzando alcuni eventi Per portare libri di I miei Ovviamente i miei libri che ho pubblicato Che ho scritto Ma anche libri di autore emergenti Un feedback molto positivo Perché comunque Sono entusiasti di vedere questa iniziativa Che non è nuovissima per carità Qualcosa del genere c'è stato in qualche anno fa Però questa è forse un po' più grande Passavi il termine Perché comunque non è solo La pettano La pina che va in giro Ho visto che ci sono in giro Anche questi tipi di iniziative La libreria è molto grande È 2,50 m per 3 Quindi andando in giro Devo trovare lo spazio Per parcheggiarmi Per fare questo tipo di iniziativa Tantissimi mi stanno chiamando Per cercare di creare degli eventi Delle iniziative Delle presentazioni E comunque Questa iniziativa è aperta Anche agli autori emergenti Per cercare di dargli Un po' di spazio Subito dopo la Lombardia Tra i prossimi obiettivi Di portare il progetto In diverse città d'Italia Passiamo allo sport serie C Finisce 2 a 2 La sfida del Palermo In casa del Campobasso Bruno risalva il rosanero di Baldini Con una doppietta Ma il rosa rimangono al settimo posto In classifica Doveva essere La giornata del rilancio Si è rivelata Un'altra mezza delusione Per tutti i tifosi Rosanero Il Palermo si inceppa A Campobasso Dove alla fine Riesce a portare a casa Soltanto un punto Ed in classifica Si mantiene in settima posizione I rimpianti aumentano Per la squadra di Baldini Anche in considerazione Del cammino Tutt'altro che eccezionale Dei rosso-blu Davanti ai propri tifosi Dopo il pareggio interno Contro il Messina Ci si aspettava Un Palermo Con una marcia in più Ma sin dai primi minuti La musica è sembrata La stessa Delle ultime settimane Idee poco chiare Da centrocampo in su Sofferenze in fase difensiva E un turnover Che fino a questo momento Non sembra aver dato risultati Fra le poche notte liete Brunori Ed il neo entrato Soleri Che ha dato una marcia in più E servito l'assist Che ha salvato il Palermo Già l'avvio Non prometteva nulla di buono Per i Rosa Con un gol Pallonetto Il numero uno di casa Ma il sorriso è durato Appena 60 secondi Con Mausso Subito in gol Sul servizio di Mercai Vero e proprio giallo Ad inizio ripresa Quando il guardaline Assegna il gol A Auger Sul colpo di testa Del centrocampista Dopo la punizione Di Silipo Il direttore di gara Tuttavia cambia idea E annulla il 2-1 Sostenendo che Il portiere Zamarion Ha mantenuto la palla Sulla linea E poi il campo basso A ritrovare Anche il gol Del vantaggio Nella ripresa Favorito anche Da un errore Di Pelagotti Sul rasoterra Di pace Prima della conclusione Brunori Ha salvato Il rosa nero Con la doppietta Personale Sullo splendido Servizio di Soleri Il Catania Torna vittorioso Da Torre del Greco La tesissima sfida Contro la Turris È terminata 3-1 Per gli etnei E i rossazzurri Ritrovano la vittoria Dopo due mesi Dall'ultima volta Che risale Al derby In casa Contro il Palermo Un Catania Ad applausi Così come meritano Un elogio Quei 90 tifosi Che nonostante Le problematiche Societarie Hanno raggiunto Torre del Greco Per sostenere Gli uomini Di mister Francesco Baldini Sull'infocato Sintetico Della Merigo Liguori Etnei Etnei che piegano La più quotata Turris 3-1 Un risultato Dettato senza dubbio Anche dall'orgoglio Che sta motivando Il gruppo Rosso-Azzurro L'ultima vittoria Del Catania Infatti Risale alla sfida In casa Contro il Palermo Dello scorso 12 dicembre Una prestazione Quasi perfetta Per gli etnei Che si impongono Sugli avversari Già nei primi minuti Dettando i ritmi Del match E nel primo tempo Sono due Le occasioni da gol Non concretizzate Dagli etnei Corosaia prima E Albertini dopo Quest'ultimo Colpisce la traversa Quasi come Un segnale premonitore I ross-azzurri Mostrano grande tenacia E mantengono i campani Lontani dalla porta di sala E chiamato in causa Poche volte Ma la tensione Si inizia a percepire E il direttore di gara Bitonti di Bologna E costretto a mostrare Parecchi cartellini gialli In totale 8 durante tutta la sfida La prima frazione di gioco Termina a reti bianche E in avvio di ripresa La musica non cambia Catania superiore Tatticamente E al minuto 54 Luca Moro serve Un delizioso assist Ad Albertini Che guarda negli occhi Il portiere avversario Spedendo il pallone nel sacco Un gol di ottima qualità Per l'1-0 del Catania Tutti aspettano La reazione dei Corallini E invece Sempre il Catania a colpire Pinto pennello Una punizione Per la testa di Luca Moro Che infila la sfera Nell'angolino Alla destra del portiere Davvero un gran bel gol E rete numero 21 Del bomber rosso-azzurro Festeggiato Con particolare entusiasmo Da tutto il gruppo Il capo cannoniere del girone Ricordiamo che ha firmato In settimana con il Sassuolo Contratto quadriennale Sale la tensione in campo I padroni di casa Cedono al nervosismo Toscone In ritardo su Biondi Non pensa alla precedente Ammunizione E si becca il rosso Lasciando i suoi in dieci Il Catania respira Ma paga pegno Nell'unica sbavatura Quando la partita Sembra essere già decisa Al novantunesimo Il reparto arretrato Etneo Abbassa la guardia Nell'unica occasione Consentendo alla Turris Di accorciare le distanze Con gli islandi Che segna la rete Dell'1-2 Provando a riaprire la gara Nel frattempo Qualche parola di troppo Vola tra le panchine Si scaldano nuovamente Gli animi E i tecnici Di entrambe le compagini Vengono espulsi Baldini e Caneo Vanno negli spogliatoi Anzitempo Il recupero si prolunga Fino al novantasettesimo E il Catania Mostra i muscoli Anche a tempo quasi scaduto Nella fattispecie Quando il difensore Campano Manzi Consente a un freschissimo Zanchi Entrato al posto di Greco L'ottantaduesimo Di suggellare Una prestazione maiuscola Con il gol Del 3-1 Per la gioia della squadra E dei tifosi rosso-azzurri Per qualche ora I problemi societari Sono stati messi da parte Chissà Forse anche questo È un segnale premonitore Era l'ultima notizia Grazie per averci seguito Appuntamento Ai prossimi notiziari Di Media News Grazie per averci seguito Grazie per averci seguito